il padellone davanti è perfetto ci copri tutto tu ce n'hai te quattro c'è il padellone ecco vai ciao Umberto ciao Umberto ciao Umberto un attimo sono un attimo sono scusa ragazzi grazie ok grazie sono 30 anni che aspetto questo momento grazie 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 quando vuoi andiamo vai vai veloce vai vai grande vai veloce vai 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 via 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 ma vai andrà per favore ti fai mai chi c'è vai l'ultima, l'ultima bene, grazie che trasmissione va? una mattina grazie grazie